bello a tutti ragazzi sono noi e oggi siamo su hero on site ragazzi in questo video vi mostro questo gioco nuovo ragazzi prima di mostrare questo gioco nuovo vi invito a iscrivervi a lasciare un like, un bel commento, usare la pizzate se l'avete provato oppure no e ragazzi cosa molto importante che vi volevo dire ragazzi un amico ho avuto un canale telegram che mi sono associato pure io sono anche amministratore e poi ragazzi vi lascio il link in descrizione del video oppure nei commenti l'ho messo in tutte le parti ragazzi qui per chi c'è un canale youtube potete avere pure zero iscritti oppure volete avere pure un canale youtube più in là oppure già siete abbastanza davanti però non so ragazzi youtube anche twitch ragazzi qui ci sta molta gente che hanno tipo un canale nuovo che non sanno cosa devono fare cosa possono fare per il canale che vogliono associare con altri youtube vogliono fare video in collaborazione sia osteggiano su twitch a parte ragazzi pure consigli ragazzi vi do pure dei consigli non vedete che sono una persona abbastanza disordinata su youtube però quelle su quelli sui dettagli ragazzi vi do pure dei buoni consigli oppure per chi vuole cacchierare un buco o vedersi i video di qualcuno ragazzi qui secondo me sono molto molto ragazzi non fate iscritto ricambio sulla comunità che non si fa iscritto ricambio in questo caso se uno si vuole iscrivere a un canale di un altro ben venga tipo se tipo ok ragazzi questo è quel mio canale faccio questi video qui capico uno lo può dire tipo giustamente dice quando andrate vi presentate pure il vostro canale mettete il link almeno qualcuno chi lo guarda chi lo steggia ragazzi andiamo avanti non perdiamo tempo vi faccio vedere questo gioco qua grazie ragazzi è molto bello ragazzi il fatto che è simile anzi è uguale a call of duty ragazzi è la coppia gratuita del gioco però ragazzi non dite che è una merda gratuito ragazzi io ho pure call of duty che è abbastanza bello però se mi startasse la partita sarebbe più bello è un possibile ragazzi questi sono le partite private quindi non cerco la partita che è io cerco la partita già fatta ah che devo premere sull'immagine scusa a partire ragazzi per chi c'ha problemi di launcher del gioco o meno ditemi i problemi che avete e ve lo faccio per risolvere che anzi c'è questo un pochettino bugato il launcher nel senso che vedete il launcher vi dovete registrare dovete chiudere il gioco lo dovete riaprire più o meno è quello il bug minchia i livelli 290 che bello mettiamo questa ah si vi faccio vedere pure questa è la costabilizzazione delle armi mi hanno dato delle armi per 7 giorni il gioco non è betwin perché certuno ha scritto nei commenti nella descrizione del gioco il gioco è betwin ma comunque non è vero perché ci sono solo dei skin tipo skin per le armi skin per questo skin per quest'altro che anzi non hanno statistica non è come Warface che c'è una statistica nei golden e nel requano qui la mia medicina la mia però uno ha bisogno di comprarla per averla questi cosa sono i gear ci sono i soldi che guadagano in partita o quell'altra cosa anzi non so che sono sempre dei soldi del gioco che non so cosa servono perché anzi questa è la seconda partita che faccio perché ho il gioco pure abbastanza nuovo quindi non ho un'idea di cosa sia no ma se il gioco tende a equilibrare le squadre a meno credo perché è a meno che non siete in parte con un amico a qualità ne è sicuro 100% che state insieme all'amico ma questa qui non è la mappa di conde strike ma comunque ci sono un po' di mappe un po' copiate aperto sì questo mi sembra una mappa di conde strike mai non ho scelto la classe perché non batta il tempo di scendere ragazzi potete fare potete mirare non mi spiegare c'è pure la modata per questa terza zona non ho il nostro come se cambia e questo da dove è uscito non ci fate caso comunque non esito i soldi ti puoi abbassare puoi mirare puoi mirare tranquillamente puoi gamperare una buona tenere gamperare ok non basta io sono devo far vedere il cecchino che è me anche ragazzi il cecchino è difficile da usare perché guardate io non sto muovendo il mouse però se vi mettete sdraiati è la stessa cosa quindi quel di piede non serve un cacchio solo se trattenete il respiro è preciso oh mio dio questo ce l'aveva la aimbot a parte io ce l'avevo però non la pure la fortività mi è vera che adesso è che devo fare saltare sempre quando vedo il culo ok quella claymore mi è messa benissimo no ragazzi è troppo difficile fare un blind perché qui quando ti colpiscono l'arma prende un ringulo molto a l'altra è abbastanza visibile a me è delicioso che cosa è la malозca che cosa è perciún il carri giallo che cosa Sì, ho dei bombi da adesso non so, non so, abitudine da vicino e di solito non mi lo so. Ah, si possono raccogliere pure le armi per terra. Questo doveva essere il tar, se non ho sbaglio, anzi se non è il tar c'è il mio scritto. E' l'amato. Chi cacchio ha visto quello stereo dopo il terra? Oh, ragazzi, il gioco sembra un'altra cosa davvero. Ma c'è di correre, ma è pazzi. Assisti, io sono il re degli assist. Guardi, questi sono gli altri, quelli normali che mi immaginano. Però in questo modo non credevo. Ok, vado tipo a... Ma c'è cacchio di bazooka. Eh, anzi, un bazooka elettrico. Comincio ad odiare queste ciume, ragazzi. Sono troppo scherzo. Oh, il metto così. Aspetta, povera laguna tirata. Altre due giorni lo faccio, è sicuro. Altre due kill che mi fanno. Inordenare le fronte di un'altra. Alla scoffi. Qualcità. Ehm... Altra. Ho preso quello, nooo Devo aumentare un pochettino la sensibilità Anzi avevo fatto questa parte, l'avevo fatto pure il bene Solo non mi ha registrato l'audio perchè io giustamente Posso dimettere quelle cuffie dovevo registrare No, no, no FGZ è davvero bravo questo gioco No, 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 no La velocità Mi ha spaccato le gambe E giustamente mi aspettavo allo scuola Non so com'è, si recupera la vita Oh che cosi si recuperano la vita Ma ecco Lugiosa parte a un modo ci sta Eh ragazzi, il fatto che mi fanno, quando mi ovviscono E ci perde la mira Eh, ci sono troppo scarso qui Potremmo si finita partita E quindi Ah no, no, no rompelo a qui vai almeno credo che sia uno, non so che rompelo a qui no, devo andare al scorpino, manda è uno dieci, questo qua mi ha ammazzato dieci volte un po' grazie se vi piace il gioco ditelo, lasciate un like ditemi cosa ne pensate ho fatto 9 kill, però i morti non medici non so che rompelo a qui e a che dai a clampo è quello che ha una pistoletta, ha fatto 50.000 kill bravo un grazie vi saluto, ditemi cosa ne pensate e ciao grazie 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 grazie